Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo fantastico video, io sono Samuele e oggi, come vedete, ho trovato Spike. In pratica ho fatto un video ieri sera, ieri notte, perché l'ho registrato il video a mezzanotte, che purtroppo mi si è cancellato, in cui ho trovato Spike in diretta. Ragazzi, volevo farvi vedere proprio la mia reazione, però purtroppo non ho potuto farlo. Oggi ragazzi, sono arrivato alle 2000 coppe, quindi ho superato Ermac 2 e il telefono. Intanto possiamo sbloccare Dynamic, quindi se oggi non troviamo nessun brawler, sbloccheremo almeno Dynamic. Ma perché guardate le percentuali, guardate il pallino dove dice i leggendari, veramente bassissima, però per risuperarli abbiamo una possibilità enorme. Quindi ora facciamo delle sopravvivenze e ci vediamo in partita. Prima partita ragazzi, con Spike. Allora, il nome non è più Samuele 2, ma mi chiamo Samuele 2-SM33F, che SM33F sarebbe Forever, solo che Forever non ci trova. Ah, ridai! Fa finta di fare delle chiamate. Per disturbarti. Sì, per disturbarti. Vedi che ti tolgo dal mio canale YouTube. Ah, 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 ah. Cavolo raga, allora, siamo 7 brawler rimanenti, quindi se per dimorre riusciamo a 0 coppe. Allora, intanto Ariel non ha capito che deve chiudere la porta. 6 brawler, 5 brawler, stiamo ancora malissimo perché abbiamo pochi punti. Uh, però almeno qua ne abbiamo due gratuiti, grazie gioco. Più grazie player, che gioco. Intanto possiamo torturare tutti da lontano. Ciao BB, proprio 6 BB, ci credo al 100%, 100% vero. Ora, noi lo possiamo prendere con qualche tecnica, guardate, no? Però almeno gli aghi ci aiutano con qua, però con qua, vabbè. Allora, intanto questo è il primo, è intrappolato. Ok. Non, no, 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 no. Vai, battuto. Siamo 3 brawler come i miei punti energia. Due brawler Scontro finale Ragazzi abbiamo vinto Prima partita è andata a finire così A fine video ragazzi ci apriamo tutte le casse Sarà impossibile Trovare un nuovo brawler Ma Però almeno sbloccheremo Dynamite se non lo troveremo Seconda sopravvivenza Ok All'inizio mi ha un po' laggato Oh adesso inizia a trovare più Dynamite perché giustamente sto a 2000 coppe Quindi i dynamite sono aumentati Ma come Ragazzi ma io trovo veramente Pochissimi boh Appena arrivo alle 3000 coppe ne troverò chissà quanti Potrò trovare anche Una partita di soli boh Tanto è questo lemme se spara a caso Lo potrei colpire Eccolo eccolo Settimi ragazzi Per colpa dell'invisibilità Potevamo anche scappare Vabbè 0 coppe questa sopravvivenza è andata molto male Ma ci vediamo alla prossima Altra sopravvivenza ragazzi Siamo sempre con spike Perché voglio giocare un po' con spike Perché me lo voglio potenziare come pam Che poi appena ci apriamo le casse Appena ci apriremo le casse Non vedo l'ora di trovare Un nuovo brawler Oppure Trovare semplicemente i mutineggi di spike E anche poi Perché poi sbloccherò dynamite Ovvio No ma io non scioppo per le casse enormi Quanto tempo ci sta spike ad aprire una cassa Perché i 6 colpi fanno da 100 di danno praticamente A 4 milioni Quindi Eh Cosa Mi stavo sciottando Vabbè meno male che se mi inquattro Quindi qualche trofello riceviamo Però veramente OP Stecca Vabbè contro spike OP Ma contro Cosa deve fare Raga Scusate se sto per un pochino zitto È che sono circondato Però quella rosa la potremmo uccidere Nova YT Quindi pure uno youtuber Sì ragazzi Accelerando in pericolo Siamo in scontro finale Quindi spike ce l'abbiamo credo 12 7 punti energia Quindi spero anche di vincere Così facciamo un bel più 10 Secondo me l'ultimo brawler Tipo qua No Qua È là È là ragazzi Uno è il bellissimo È il primo Che blocco Eh No 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 Dai raga possiamo vincere La forza di spike La forza di spike Ragazzi Ieri ho lasciato un milione di hashtag Vabbè Abbiamo vinto raga Più 10 Facciamoci altre 2-3 partite E poi ci apriremo le casse Intanto grado 12 Grazie mille spike Per farmi tutte queste coppe E ci vediamo alla prossima partita Ok ragazzi Alta sopravvivenza E non è un minuto E non è un minuto E non è un minuto Un nanosecondo Lo so Lo so Ok raga Allora Non si sentirà di sicuro Mia madre Quindi meglio così Batteria 15% Cavolo E va bene Siamo 5 Prendiamo quella rosa Allora Via 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 Spariamo 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 Allora La farò diventare più veloce Praticamente Velocizzerò la parte Quindi se sentite bene Che non capita niente Mi dispiace Ma mia madre Ancora ha capito Che i video su youtube Non si vuole far sentire la voce E poi entra sempre Quindi se per caso Dovesse rientrare Io Rimetto Velocizzato Siamo a 9 Brule Poi arrivelocizzerò La parte Quella dove è entrata mia madre Ragazzi Infatti ora Rivelocizzo Poi controllo se si sente Perché se non c'è bisogno Non c'è bisogno Pam 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 è il brawler Non pam Tipo pam Allora raga Se risentite mia madre Rivelocizzo Ah Questo video sarà pieno di velocizzi No Siamo morti Quinti Più tre Solo più tre Possiamo fare Facciamo l'ultima Sopravvivenza Scusate ragazzi Se dovrò rivelocizzare Così tante volte Che mia madre ancora non ha capito Che sto registrando un video E continua a parlare Mamma mia ragazzi L'abbiamo Shottato Sì ragazzi C'è un caldo Ci sono almeno 885 Mila 885 Ci siamo 7 brawler Quindi la media sarebbero 0 coppe No che caldo No ho sporcato la ulti Pensavo che la ulti potesse vedere il brawler Siamo arrivati i sesti raga Ultima sopravvivenza è andata malissimo Non è giusto Abbiamo fatto solo un trofeo Ma ci vediamo in lobby Ciao E se Più 4 Ora possiamo aprirci Adesso ci vediamo in lobby Non ho toglia Non lo so Ma ora bene Apriamoci queste fantastiche casse Non trovi niente Sì perché Dai Spike Spike Pam Jesse Rosa Un ticket Rosa ancora Ora trovi BB Ci scommetto Vabbè se trovo BB C'è Io già ce l'ho nel primo account 3 ticket 50 monete Cassa finale 3 gemme Possiamo sciopparci una skin 25 punti energia Spike Ma quando Pam E poi andiamo al nuovo brawler Madonna Le volte a pensare che ho trovato un nuovo brawler Ragazzi Quindi un brawler era obbligatorio Se ne trovavamo due Eravamo qualcosa di fortunati Nuovo brawler 14 Potenziamo di Spike Al 2 Pam Al 3 Rosa Al 5 Jesse Al 4 No Per poco non ho bull Livello 6 E abbiamo Dynamike 245 Ma ti ho sciopparo qualcosa No 31 gemme Ti devo sprecare questo No Il primo oscuro Non lo voglio Ok E quindi ragazzi Spero che questo video Si è piaciuto Faremo poi un episodio Di Dynamike Ragazzi Ragazzi in questo video Non abbiamo trovato niente A parte un nuovo brawler Dynamike Quindi il prossimo episodio Che forse sarà oggi o domani Su Spike Su Spike Su Dynamike E giocheremo con Dynamike Uscirà sulle avventure di Ariel Un altro video Scusate se comunque il nome è Ariel E basta Non c'è scritto è Samuele Ma c'è stato un problema Forse lo posso cambiare Vabbè ragazzi Quindi ciao ciao Ciao